E partiamo con il Geo Break di oggi, ultimo Geo Break per questa stagione, ci rivedremo infatti poi a settembre. Vi condivido subito lo schermo così iniziamo. Quindi benvenuti e oggi diciamo appunto ultimo Geo Break per questa stagione e chiudiamo quindi questo diciamo questo anno di Geo Break con appunto un argomento che ci sta diciamo particolarmente a cuore perché è sicuramente uno degli aspetti del nostro lavoro con i quali ci siamo più e più volte scontrati e che soprattutto abbiamo proprio imparato ad affrontare sempre meglio nel tempo. Mi sto riferendo appunto alla gestione della manualistica, quindi alla creazione appunto di manuali da accompagnare tra virgolette ai software, ai servizi che sviluppiamo per i nostri clienti e che sono sempre ovviamente richiesti. Qual è il problema che diciamo nel tempo ci siamo trovati a dover affrontare? Intanto appunto la necessità di creare un manuale che fosse facilmente accessibile e facilmente condivisibile, ok? Un manuale che in qualche modo potesse essere anche facilmente aggiornato perché diciamo che lo scopo di creare appunto un manuale da accompagnare a un software, a un servizio, insomma a uno dei nostri prodotti è quello che appunto il manuale però in qualche modo si muova, si sviluppi di pari passo col servizio stesso, col prodotto stesso. Noi spesso infatti quando facciamo una proposta al cliente per l'attività, una cosa che teniamo sempre molto a sottolineare è quella che appunto la manualistica verrà sviluppata, verrà generata fin dalle primissime fasi di sviluppo, proprio perché consideriamo che sia importante che le due cose, quindi software e manuale, veramente viaggino su binari paralleli. Inoltre sempre più spesso viene richiesto un manuale diciamo molto ricco, molto quasi oserei dire interattivo nel senso, un manuale con link, immagini, video, gif animate, insomma dei manuali che quasi più che appunto il classico manuale diventino dei veri, quasi veri e propri tutorial. Diciamo che i primi tempi abbiamo gestito la questione manualistica, credo come molti con dei fondamentalmente editor di testo, quindi i vari libre office ed intorni, e probabilmente noi come molti altri ci siamo sempre diciamo dovuti poi scontrare con problemi di formatazione, di compatibilità tra le diverse versioni, di compatibilità fra i diversi software. Ad esempio in GTR per politica proprio diciamo aziendale utilizziamo software open, quindi banalmente libre office e non il pacchetto Microsoft, insomma il pacchetto office, per cui spesso poi capita che il classico file ODT di libre office se aperto con Word non sia perfettamente compatibile e quindi insomma tutta questa serie di problematiche a cui si aggiunge il problema di gestire le diverse versioni. Immagino che molti di noi avranno avuto il computer pieno di manuale 1, V1, V2, V3, bis, tris, date e via dicendo, e spesso il rischio lì era poi di perdersi delle versioni, magari ripartire da una versione precedente, quindi perdersi, perdere fondamentalmente materiale, tempo, energie e soprattutto nel mio caso anche pazienza. Quindi una volta diciamo esauriti da tutta questa serie di problematiche che ovviamente diventavano sempre più importanti in funzione anche dall'entità, dell'attività perché ovvio che se il manuale era fondamentalmente due paginette di manuale ovviamente il problema non è che si presentasse più di tanto, quando inizia a dovere invece però realizzare manuali complessi in cui hai bisogno banalmente di magari suddividere in capitoli, in paragrafi, in sezioni, fare rimandi e via dicendo, gestire tutto questo con il classico editor di testo e il classico salvataggio in formato PDF da mandare poi al cliente diventava veramente complicato. Quindi abbiamo cercato un po' soluzioni alternative e quella che alla fine abbiamo dopo un po' di tentativi e di ricerche abbiamo deciso diciamo di adottare è appunto l'utilizzo di Sphinx associato all'utilizzo di Read the Docs. Ora spiego brevemente cosa sono questi due applicativi. Allora Sphinx è appunto un generatore di documentazione che fondamentalmente è in grado di trasformare dei file, semplici file di testo che devono ovviamente essere scritti con una sintassi particolare, con un linguaggio particolare che è il Restructured Text, in appunto una risorsa web, quindi una pagina web facilmente navigabile e raggiungibile quindi da un qualsiasi e comunissimo browser che tutti noi possiamo avere sul nostro computer e in grado appunto di gestire anche link a risorse esterne, collegamenti ad esempio a video caricati su piattaforme come YouTube piuttosto che Vimeo che ti consente poi anche di diciamo esportare volendo il tuo manuale in vari formati dal classico PDF fino addirittura al formato latex e insomma consente veramente tutta una serie di possibilità che ti garantiscono insomma di arrivare ad ottenere un manuale anche molto complesso, molto elaborato, molto ricco. Read the Docs invece è una piattaforma open source che ti permette di ostare diciamo il tuo manuale senza quindi dover necessariamente avere un tuo server su cui installare Sphinx e su cui di fatto andare a fare tutte le, tutte le lanciare, andare a lanciare tutti i vari comandi Sphinx che ti permetterebbero appunto di arrivare ad ottenere la tua pagina web. Con Read the Docs fondamentalmente ci possiamo quasi dimenticare di Sphinx, ok? Perché a quel punto l'unica cosa che ci serve veramente per arrivare ad avere la nostra versione web del nostro manuale è appunto una repository GitHub piuttosto che GitLab o Bitbucket e collegare questa repository appunto alla piattaforma Read the Docs. Read the Docs vi dicevo è una piattaforma open source e è diciamo gratuita per la manualistica di progetti open source. Appunto è sufficiente avere quindi una repository pubblica e dedicata al codice del manuale. A questo punto connettendosi, loggandosi a Read the Docs anche col proprio ad esempio utente GitHub viene creato, viene importato sulla piattaforma Read the Docs la repository contenente il codice del manuale e a quel punto Read the Docs fa di fatto tutto per voi. l'unica cosa che l'utente deve fare è andare ovviamente ad inserire i contenuti del manuale appunto nel linguaggio richiesto da Sphinx. In che senso Read the Docs fa tutto per noi? Nel senso che a quel punto ogni volta che voi committerete, che farete un commit sulla vostra repository GitHub, quindi andrete a modificare i vari file aggiungendo testi piuttosto che immagini, piuttosto che altro Read the Docs recepirà immediatamente le modifiche e andrà a compilare in automatico il vostro manuale garantendovi quindi la costante sincronizzazione fra ciò che avete sulla repository e ciò che visualizzate appunto su web. Read the Docs vi consente inoltre anche di gestire le diverse versioni del manuale quindi potreste appunto decidere di o aggiornare sempre diciamo la stessa versione oppure creare versioni differenti potete magari con un utilizzo già un pochino più esperto andare a personalizzare anche il template quindi magari modificando colori, loghi e via dicendo e anche qua con qualche insomma con un po' di lavoro in più vi consente anche di gestire la traduzione multilingua del manuale quindi arrivare ad avere le diverse versioni del manuale nelle diverse lingue per le quali ovviamente l'utente deve fornire la traduzione. Cosa deve contenere però la repository GitHub? per poter essere diciamo collegata alla piattaforma Read the Docs deve contenere fondamentalmente due elementi essenziali che sono un file di configurazione per Sphinx che deve appunto chiamarsi conf.py e sul quale vanno fatto ovviamente un po' di modifica a seconda delle proprie esigenze, delle caratteristiche che deve avere il manuale e trovate diversi esempi ovviamente di questo file in giro sul web tra cui anche nella documentazione di Sphinx ci sono esempi diciamo di file di configurazione di configurazione più o meno minimali e poi deve contenere il file index.rst rst è l'estensione che dovranno avere i file che andranno a comporre il vostro manuale questo file index altro non è che il file che in qualche modo andrà poi a creare l'indice del vostro manuale e all'interno di questo file andranno quindi inseriti i nomi di tutti i file .rst che comporranno il vostro manuale come vediamo qua nell'immagine e come possiamo andare a vedere anche su questa repository GitHub appunto che ho creato per appunto avere una sorta di manuale molto molto minimal ma giusto per capirci vedete che qua abbiamo un conf.py tutto questo che vedete ovviamente non è che me lo sono scritto io a mano ma appunto ho sfruttato qualche esempio di file .conf trovato sulla documentazione di Sphinx e come vedete ci sono vabbè tutta una serie di configurazioni che devono essere fornite appunto per la corretta compilazione del vostro manuale ma oltre al file .conf al file .conf importante è appunto il file index .rst che deve avere diciamo questa questa struttura ok quindi fondamentalmente contenere un titolo e poi questo elemento talk tree che è appunto è l'elemento che poi costruirà il nostro indice e qua dovremo andare a inserire tutte le pagine appunto che comporranno il nostro il nostro manuale ad esempio facciamolo subito provo ad aggiungere un nuovo file al mio manuale lo chiamiamo geobreak.rst faccio lo salvo vado in index.rst lo modifico che è successo no ho sbagliato qualcosa scusate allora modifica ok e qua sotto vedete che già c'era intro che è il nome del file .rst che era già presente sulla mia repository ora vado ad aggiungere il nome del nuovo file che ho appena creato giusto per vedere questo è read the docs ma ora ci torniamo se faccio mostra documenti probabilmente adesso non vediamo ancora la modifica perché la compilazione probabilmente non è ancora conclusa però ecco infatti vedete che mi dice compilazione in corso quando sarà terminata vedrò appunto la la modifica applicata sul mio manuale vedete che io fondamentalmente era lato read the docs non ho toccato nulla semplicemente ho salvato le modifiche ai miei file lato repository github e read the docs è partito autonomamente a compilare il mio manuale torniamo un attimino alla presentazione e appunto vediamo un pochino nel dettaglio come come accedere a read the docs e come soprattutto collegare la nostra repository github appunto alla nostra piattaforma tanto vediamo se per caso esatto ora ha terminato la compilazione e se non ho fatto errori particolari di sintassi dovrei qua vedere qualcosa non mi sembra che ci sia niente no non vedo forse niente perché il file geo break è ancora vuoto credo probabilmente finché non non inserisco dei contenuti non non mi visualizza nulla ma dicevamo tornando a read the docs io semplicemente mi mi collego con il mio utente github in questo modo fondamentalmente read the docs sa già dove andare a cercare ehm le mie repository e ehm nei miei progetti vabbè qua vedete tutte le repository github che ospitano manuali e che ho già ehm diciamo stato sulla sulla piattaforma semplicemente potete andare a fare importa un progetto e vedete che qua vi dà già l'elenco di tutte le le repository che potrebbero potenzialmente ospitare uno dei vostri manuali scegliete la repository e ehm a quel punto il il manuale è correttamente importato potete anche importarlo manualmente semplicemente fornendo eh il link al link al link al repository quello che tendenzialmente trovate qua ecco questo qua quindi diciamo che il collegamento è veramente molto 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 semplice una volta che l'avete collegato ve lo troverete appunto fra i vostri progetti cliccando sul sul singolo progetto avete una serie di opzioni potete vedere ovviamente le varie compilazioni che sono state fatte nel tempo potete gestire le diverse versioni e poi lato diciamo amministratore potete andare anche qua a dare tutta una serie di ehm impostazioni al al vostro manuale ok fatto questo vi ripeto ehm lato riddox fondamentalmente non dovrete più fare nulla se non appunto eh verificare che eh le le varie compilazioni vadano eh vadano a buon fine ok eh la sintassi allora la sintassi eh che dovrete imparare ad utilizzare se volete appunto utilizzare eh questi questi strumenti per la redazione dei vostri manuali ehm è quella appunto del restructured text eh che non è proprio una sintassi oserei dire eh molto intuitiva probabilmente per chi è già abituato con il markdown ehm la troverà probabilmente un po' più famigliare però diciamo che le le prime volte può essere un pochino un pochino ostica ehm esiste molta documentazione che potete ovviamente trovare trovare su web e eh anche noi di di Digiter abbiamo appunto realizzato un piccolo tutorial dove appunto eh che in realtà l'abbiamo ehm cioè questo tutorial nasce proprio da una sorta di template di 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 come dire di eh dizionario della sintassi eh restructured text che che c'era che c'eravamo fatti per noi proprio perché così mano a mano che scoprivamo nuovi nuovi trucchi nuove 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 cose per ottenere qualche effetto particolare sul sul nostro manuale lo ce lo mettevamo appunto su questa sorta di dizionario in modo da non dover la volta successiva impazzire di nuovo per ricordarsi come come avevamo fatto giusto per farvi appunto qualche esempio torniamo al al la nostra repository github vedete che qua allora abbiamo un po' appunto di esempi di sintassi ad esempio questa questa sintassi qua crea di fatto un titolo ok ehm questa invece quindi il trattino singolo ehm crea una sezione e invece il più crea una sottosezione come si traduce questa cosa lato manuale web in questo modo vedete abbiamo qua un titolo una sezione e una sottosezione se andiamo ad aprire l'indice del nostro manuale vedete che qua abbiamo appunto la nostra struttura quindi fondamentalmente il titolo è il capitolo ok ehm la sezione diventa il paragrafo e la sottosezione il sottoparagrafo ok tornando alla nostra sintassi abbiamo poi ovviamente la possibilità di aggiungere ehm dei collegamenti incrociati ok quindi se vogliamo linkare eh una particolare eh sezione della della nostra pagina del nostra del nostro manuale con questa sintassi qua andiamo appunto a eh a creare questa questo questo collegamento che si va a tradurre fondamentalmente in questo modo qua vedete io avevo in questo qua ho creato una appunto un un riferimento un link a una sezione particolare del mio manuale in questo caso alla sezione scopo e l'ho fatto appunto aggiungendo qua il mio link con questa particolare sintassi e poi in corrispondenza del punto a cui voglio far arrivare il mio link vado ad aggiungere quest'altro quest'altro elemento la combinazione di questo elemento e quest'altro elemento è quello che mi crea appunto il ehm il collegamento e quindi il link che mi rimanda da un punto all'altro del del manuale abbiamo ovviamente la possibilità di aggiungere immagini immagini che devono essere a loro volta caricate però nella nostra repository github ovviamente ehm abbiamo tutti i vari effetti sul sul testo quindi grassetto italico ehm eh tipo ehm come si dice apice e via dicendo ehm che appunto lato web vengono resi ovviamente in questo modo qua ok abbiamo la possibilità molto secondo me molto carino ed efficace all'interno di un manuale di creare delle box diciamo particolari quindi ora poi la traduzione automatica in italiano forse non è eh il massimo ma se invece usassimo diciamo come lingua del nostro manuale l'inglese ehm sarebbe appunto tipo sì also warning hint ehm e via dicendo e appunto la sintassi che ci permette di creare queste box in realtà è molto semplice perché semplicemente dobbiamo aggiungere questo elemento e poi il testo che dovrà contenere la nostra box colore e ehm e titolo ok della box vengono ehm creati in automatico altri esempi possiamo inserire all'interno dei nostri manuali dei pezzi di codice ad esempio delle delle porzioni di ehm di HTML nel caso in cui volessimo ad esempio aggiungere un iframe quindi fondamentalmente inglobare nel nostro manuale un un altro sito web vedete che con questa sintassi qua questo elemento qua fa sì cioè è quello che dice al nostro compilatore poi a Sphinx che quello che viene che seguirà il testo che seguirà è appunto in formato HTML e per cui possiamo andare proprio ad aggiungere il nostro codice in formato HTML con tutte le caratteristiche tipiche dell'HTML e questa è la resa vedete qui ho aggiunto un iframe e quindi fondamentalmente ho inglobato all'interno del mio manuale in questo caso vabbè il sito Digiter ovviamente a titolo d'esempio però questo è l'effetto che si può ottenere ovviamente si possono anche inserire dei link ok ehm semplicemente o andando a inserire appunto il l'url del del sito web oppure diciamo ehm fornendo sia l'url che eh diciamo la porzione di testo che diventerà appunto link a quella pagina web possiamo andare a inserire dei blocchi di codice quindi nel caso dovessimo appunto fare esempi di codice eh da inserire nel nostro manuale possiamo ovviamente inserirli anche con la corretta sintassi nel senso che l'elemento code block richiede che venga specificato di che codice stiamo parlando quindi HTML Python JavaScript e via dicendo e in funzione appunto del del linguaggio che andiamo a inserire qua verrà ovviamente formattato diciamo in modo diverso ok in questo caso ad esempio abbiamo messo un come come tipo di codice l'HTML vedete che fondamentalmente mi mette diciamo in risalto i vari tag HTML e e così via ovviamente possiamo fare liste sia puntate che che numerate e appunto ci sono poi veramente tantissimi altri eh tantissime altre eh caratteristiche che possiamo dare al al nostro manuale però diciamo queste sono un po' quelle principali ehm giusto per farvi vedere qualche esempio forse un pochino più elaborato eh rispetto a questo manuale proprio d'esempio che ho creato al volo volevo farvi vedere ad esempio il questo manuale qua che è il manuale che abbiamo sviluppato per un plugin QGIS sempre sviluppato da noi vedete in questo caso l'indice è decisamente più più complesso abbiamo diverse pagine quindi fondamentalmente se andiamo a vedere la repository GitHub di questo eh di questo manuale sarà composta sicuramente da 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 molti più eh da molti più file rispetto a quelli che vedevamo prima allora scusate che la cerco al volo manuale cdu creator vedete che sì abbiamo decisamente più insomma più file si tratta già di 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 un manuale decisamente più complesso e ehm qua abbiamo tutte insomma tutta una serie di elementi vedete l'utilizzo eh delle note delle box che vedevamo prima collegamenti la possibilità ad esempio di ehm scaricare dei dati in questo caso abbiamo attivato il download di un file zip con una serie di dati diciamo di sample eh che possono essere usati vedete anche qua su divisione in sezioni e sotto sezioni e l'utilizzo ovviamente di immagini queste sono ad esempio GIF animate eh ci sono collegamenti a in questo caso vedete a un video caricato su YouTube e e così via quindi questo già è è un manuale decisamente più più complesso ve ne faccio vedere soltanto un altro di nuovo in cui invece eh gestiamo la traduzione multilingua in questo caso questo manuale che abbiamo realizzato sempre per un plugin QGIS che abbiamo sviluppato eh lo abbiamo realizzato in diverse lingue per cui se andiamo qua vedete che ho la ho fondamentalmente le tre diverse versioni di manuale quella in italiano quella in inglese eccola qua e poi anche in spagnolo e voilà quindi vedete che si può veramente arrivare a ehm davvero a a prodotti anche piuttosto piuttosto complessi ovviamente i i i primi saranno come sempre accade un po' più più basic ma col tempo poi ci si impratichisce come come per tutto e si può veramente arrivare a realizzare qualcosa di molto molto bello e e soprattutto molto molto più semplice molto più facile da gestire una volta che si supera diciamo lo scoglio iniziale ehm la gestione della manualistica diventerà veramente più più agevole allora io ho finito quindi lascio volentieri spazio a a eventuali domande se ci sono insomma è stata forse un po' un po' rapida ma eh diciamo che è un argomento abbastanza anche difficile da spiegare a parole spero che insomma comunque di di essere eh stata chiara poi eh magari ovviamente caricheremo la registrazione su youtube e magari nella descrizione del video mettiamo un po' di link eh sia anche alla repository github che vi facevo vedere adesso con un po' di esempi di sintassi e magari appunto anche il tutorial che avevamo realizzato così da avere un po' di materiale come come punto di partenza allora se non ci sono direi grosse domande io vi ricondivido solo un attimo la la presentazione come dicevo all'inizio oggi è diciamo l'ultimo job break di di questa stagione ci rivedremo poi a settembre con ovviamente nuovi nuovi gio break e niente grazie grazie per per la partecipazione e buone estate buone meritate ferie a tutti a presto e ci rivediamo a settembre sì ciao grazie mille dicevo grazie 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 a te valerio buona giornata buona giornata ciao ciao